Un'amica mi chiama, vicina di casa, mi dice «Senti, puoi fare delle foto ad Alessia, sua figlia? Che vorrei avere dei ritratti della mia bambina». Vado a casa di questa amica e Alessia, la figlia, in quel momento stava organizzando i suoi giochi, stava mettendo in ordine i giochi, vedo questa scena, mi piace, e faccio una fotografia, questa, di Alessia, che stava organizzando tutti i suoi giocattolini nella stalla del nonno. Con questa foto, che mi piace, guardandola poi a casa, dico «Wow, figa, mi piace questo risultato», decido che in ogni paese dove sarei andato per il mio giro del mondo avrei cercato un bambino e avrei chiesto a questo bimbo o bimba di farmi vedere i suoi giochi preferiti. E quindi ho iniziato una collezione di foto, che ora anche queste ve le faccio vedere molto rapidamente, che sono ritratti di bambini tutti fra tre e sei anni, tutti fotografati con i loro giochi preferiti. Quella di prima, Alessia, era in Italia, lui è in Texas, ad Haiti, in Norvegia, lei è nelle Filippine, in Libano, in questo caso non solo è il suo gioco preferito, ma è l'unico che ha, lei è in Albania, in Kenya, in Cina, in Svizzera, a Zanzibar, in Tanzania, con il presidente che guarda dall'alto, Malesia, lei è in Svezia, sembra già pronta per lavorare all'Ikea, però vedi, c'ha la sua casettina, la sua cuscinetta, in Thailandia, e mi sono accorto solo dopo aver stampato il libro, c'è scritto Sonopi sulla maglietta, non Snoopy, questa è anche una storia abbastanza bella, divertente, in Zambia ero in un paese che si chiama Kalulushi, ero in mezzo al nulla, veramente un villaggio al nord del paese, al confine con il Congo, però insomma lì cercavo un bambino, una bambina con dei giochi, e in questo villaggio quasi nessuno aveva dei giochi, come li conosciamo noi, però un giorno trovo questi bambini, tutti con questi occhiali da sole, che se li cambiavano, giocavano con gli occhiali da sole, mi incuriosisco, chiedo un po' com'è che avessero questi occhiali, e avevano trovato uno scatolone, lungo questa strada, pieno di occhiali da sole, chissà come, magari è caduto da un camion che passava di lì, e li trasportava in Congo, nessuno lo sa, però fatto sta che questi occhiali erano diventati il gioco preferito del villaggio per quei pochi giorni che ero lì io, e quindi li ho fotografati con gli occhiali. A un certo punto, mi sono trovato in Kansas, non so se qualcuno di voi è mai stato in Kansas, però se sei in Kansas, per 4-5 giorni a novembre, in attesa, io ero lì in attesa fra un ritratto e un altro, quindi avevo 4-5 giorni liberi, fra un appuntamento e un altro, ero nel mezzo del nulla, e in Kansas non c'è veramente nulla da fare, soprattutto a novembre, quindi mi annoiavo mortalmente, e a un certo punto ho preso la macchina, ho iniziato a guidare fuori Kansas City, e nel mezzo del nulla vedo questo negozio gigantesco, tipo grosso quanto l'S Lunga di Corsico a Milano, però invece che S Lunga, sopra c'era scritto GANS, pistole, quindi dico, ma chi le vendono le pistole qua? Mi guardo intorno e dico, non c'è nessuno, siamo in mezzo al nulla, chi se le compra le pistole qua? Non mi era mai veramente incuriosita questo aspetto degli americani, però a quel momento lì dico, vabbè, non c'ho niente da fare, mi annoio, c'è un negozio di armi enorme, sono in mezzo al nulla, entro, sono entrato dentro, e ho scoperto un mondo. Primo, mi aspettavo che vendessero pistole, tipo le rivoltelle dei film dei cowboy, e invece alle pareti c'erano mitragliatori, bazooka, c'era veramente di tutto. E poi mi sono messo a parlare con un po' di clienti, che un paio di loro mi hanno dato più confidenza, perché erano incuriositi dal fatto che un italiano fosse lì a frugare nelle loro armi, quindi uno dei due stava per comprare una pistola, era la cassa che stava per pagare una pistola, quindi mi avvicino, e gli chiedo, ma faccio due domande, e poi gli chiedo, ma scusa, questa qui è la prima pistola che compri? E lui mi guarda, e gli dice, la prima? Ma c'erano almeno 60 a casa. E in quel momento mi viene proprio distinto di chiedergli, posso farti una foto con le tue pistole? Pensando a come avevo stato fatto i bimbi con i giochi. E lui mi fa, come over. Quindi un'ora dopo mi trovo a casa sua, e questo è quello che è successo. e questo è quello che è successo. E quindi, ecco, questo è Robert, ha 43 anni, vive in Kansas, e ha 57 pistole e fucili. E questa è stata la prima fotografia che mi ha incuriosito rispetto a questo argomento, perché riguardandola, il giorno dopo ti dico, minchia, sono matti questi americani. e poi ho pensato, aspetta, ma è matto lui o sono matti gli americani? Per scoprirlo, mi sono messo a fare qualche ricerca e ho subito trovato dei dati, che è facilissimo scoprire, basta andare su Google, e i dati sono che in America ci sono più armi ad uso privato che persone, quindi sono circa 400 milioni di armi da fuoco registrate per 320 milioni di persone. Quindi c'è già un rapporto di 1.2, 1.3 a testa. Solo quelle registrate. Poi c'è tutto un mondo di non registrate che si stima siano pure il doppio. E poi, cercando ancora, si scopre che il 48% delle armi private mondiali sono negli Stati Uniti, ma loro sono il 4% della popolazione mondiale. Quindi insomma c'è dei numeri che sono completamente sballati. e il secondo paese dopo gli Stati Uniti per il possesso di armi è lo Yemen, ma parecchio sotto, cioè molto 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 sotto come statistiche, però insomma è un paese dove c'è guerra e guerre civili da sempre, quindi è tutto un altro scenario. E quindi decido di fotografare, dico ok, ci riprovo, voglio fotografare questi numeri e questo fenomeno. Qualche giorno dopo applico la stessa formula, entro in un negozio di armi, parlo con dei clienti e finisco a casa di Black Rambo che si è presentato così alla porta, mi dice piacere sono Black Rambo, che in Louisiana oltre le sue 70-80 armi da fuoco si presenta in piscina con due lanciafiamme. In questo lavoro ho fotografato varie persone, sono 40 soggetti fotografati in circa 35 stati americani, quindi ho fatto una ricerca molto trasversale, sono partito da New York fino ad arrivare alla Hawaii fotografando in tantissimi stati e quello che è stata un po' la ricerca è stata sì di numeri, quindi diciamo le mie foto in qualche modo servono quasi come delle infografiche perché mettono proprio palesemente in mostra questi numeri che solitamente li vedi in un grafico a torta o a colonne e magari ti impressionano poco, però vederle così diciamo è tutta un'altra storia. e poi ho fatto una ricerca che è andata a frugare nei cassetti un po' di tutti, quindi ho fatto bianchi, neri, ricchi, poveri, famiglie, democratici, repubblicani e si scopre che l'amante delle armi americano non è uno stereotipo ben preciso, cioè non rispetta una figura che è quella che più o meno tanti si immaginano del texano bianco quarantenne. È veramente trasversalissima fino ad arrivare tipo in questo caso qua a casa di due insegnanti di fitness che sono in California, sono degli influencer su Instagram, insomma quello che fanno sui loro canali Instagram del promuovere lo stile di vita sano, andiamo a correre in spiaggia, poi sano fino a un certo punto visto che lei è rifatta da capo a piedi a 22 anni, però passiamo per buono che promuovono lo stile di vita sano. Tutto questo però mai senza una pistola in tasca, quindi sui loro canali Instagram loro promuovono mostruosamente l'uso delle armi, pur essendo californiani democratici amanti del fitness. Questa famiglia qua è stata una delle foto più impressionanti, ci ho messo più di otto ore dalla prima pistola all'ultima a posizionare tutto. ovviamente queste messe in scena sarà Sandia, è roba mia, cioè sono io che poi dirigo l'ossessivo compulsivo, non sono loro, sono io, e queste sono circa 200. Circa 200 e non sono tutte, perché come potete vedere sono anche sul tetto. Loro continuavano a portarne fuori e io a un certo punto l'ho messa sul tetto, poi non c'era più spazio per mettere da nessuna parte, io non potevo neanche retrocedere con l'inquadratura perché ero al limite di questa terrazza, quindi non potevo andare neanche indietro, quindi a loro ho detto ok, fermiamoci qui, nella didascalia c'è scritto che queste sono una parte delle armi che hanno in casa, non so quante ne avessero ancora. Ma in tutto questo tempo il ragazzino che è lì alla porta di 11 anni e che ha una pistola in mano e che i genitori erano orgogliosi di dirmi che quella se l'è costruita da solo assemblando pezzi di pistole che ha trovato in casa che erano pezzi di vecchie pistole quindi se l'era costruita da solo, lui per tutto quel tempo è stato di fronte alla Playstation a giocare con un gioco che sparava tutti, cioè quindi era di fronte allo schermo e sparava ai mostri, ai zombie, cioè era lì a sparare davanti allo schermo. Poi appunto i genitori mi dicono orgogliosamente che lui ha la sua pistola e non voglio insinuare niente però in quel momento io ho un po' percepito com'è possibile che a un certo punto un ragazzino entri in una scuola con una pistola perché questo mi sono immaginato a 11 anni ha la sua pistola i genitori sono orgogliosi che ce l'abbia è un po' cicciottello magari un giorno il suo compagno di classe lo prende per il culo per chissà cosa spero non succeda mai ma a quell'età lì il cervello non è che sia ancora così pronto a comprendere certe cose quindi mi immagino che quando succede che un ragazzetto va a scuola e fa una strage probabilmente arriva anzi probabilmente arriva quasi sicuramente da contesti di questo tipo in Alabama che orgogliosamente mi ha detto che sta già insegnando ai figli a sparare però uno ha 6 anni l'altro ne ha 3 lui che oltre una McLaren ha un bel po' di mitragliatori in Arizona lei sempre in Arizona 16 anni e questa è la stanza segreta delle armi quindi la porta che vedete lì è una porta che è dietro una libreria per accedere alla stanza segreta tiri via un libro dalla libreria giri un po' sascendere insomma sembrano quelle robe tipo film di James Bond si gira la libreria entri nella stanza delle armi e c'è tutto quello che vedete nella foto è metà della stanza perché l'altra metà non era alle mie spalle lei ha 16 anni quindi non può legalmente possedere armi perché fino a 18 anni non si può però per bere una birra ce ne vogliono 21 quindi a 18 anni ti puoi comprare il mitragliatore però se vuoi una birra devi aspettarne ancora 3 e il padre super orgoglioso mi ha detto ah sì io ho fatto con notario un documento appena lei avrà 18 anni diventa tutto suo quindi lei sono passati due anni da questa foto oggi tutto quello che vedete è suo a Las Vegas anche lui nella stanza segreta delle armi fotografato attraverso lo specchio lui è un pastore protestante è quella che alle sue spalle è la chiesa dove ogni mattina predica è uno dei pezzi grossi di Google è musicista è gay spostato con un uomo ha lavorato alla campagna di Hillary alle elezioni quindi è dichiaratamente democratico ha la macchina elettrica viaggia tutto il mondo però ha la casa piena di mitragliatori quindi esattamente la persona che è all'opposto dello stereotipo che si può avere come l'amante delle armi americano è lui quindi è veramente un amore questo che hanno gli americani per le armi estremamente trasversale non è legato a un specifico tipo di persona alle Hawaii in Kansas una bella coppia felice con i cagnetti e i mitragliatori e questa è l'ultima foto che vi faccio vedere oggi che è quella con cui poi ho fatto la copertina del libro perché qua mi sono divertito a ricostruire tutto il perimetro degli Stati Uniti usando 119 armi da fuoco che aveva lui in casa e il libro si chiama The Americans quindi ho giocato con due parole e voilà direi che questo è tutto mi sa se sono rientrato nell'ora e mezzo che avevo a disposizione grazie